Buongiorno bentornati su WeTrading, oggi è lunedì 16, andiamo subito a vedere alcune impostazioni sempre per le opzioni digitali. Ci stiamo concentrando anche su questo nuovo prodotto e vediamo di riuscire a fare un'altra sessione didattica che possa darci delle lucidazioni in merito. Come sempre utilizzeremo IQ Option per i grafici, cioè per le entrate, mentre una qualsiasi MT4 per impostare la tendenza. Nelle MT4 vado a scegliere un timeframe M5, potete usare i vostri indicatori, io ho i miei, quindi valuto di utilizzare degli indicatori settati appositamente in base ai vari timeframe, chi vuole comunque anche questi sono disponibili su WeTrading.it. Guardavo oggi l'EuroUSD 5 minuti che sembra pronto per un'altra gamba ribassista, confermato da questa linea rossa che vedete qui in basso a destra e dal fatto che ci troviamo anche su 5 minuti tutto sotto la cumo. Abbiamo avuto un primo respiro e una pausa, da qui potrebbe nascere una nuova tendenza verso il basso. Ecco che volevo a questo punto individuare un modo per entrare nel mercato. Andiamo sulle digitali prendendo l'EuroDollaro, qui utilizzo un grafico a 15 minuti per avere una visione un po' più pulita, la scadenza che mi promette attualmente è alle 10, insomma mancano 20 secondi, quindi non la faremo e aspettiamo la scadenza delle 10 e 5 minuti. A questo punto ne approfitto per vedere se in questo momento ci sono delle news finanziarie che potrebbero influire sulla tendenza. L'EuroDollaro è alle 11, quindi dovrebbero ore 9, 10 alle 12 italiane, quindi perché questo è un orario GMT. Quindi torniamo a noi, scadenza 5 minuti, ribasso, mi vado a prendere un 285%, mi sta bene, al solito metto i miei 5 dollari e vediamo un po' che cosa accade. Quindi la tendenza ribassista dovrebbe essere quella che, come vedete, dalle tantissime frecce verso il basso ci avrebbe dato dei risultati migliori e a questo punto dobbiamo aspettare un po'. Vediamo se abbiamo ragione oppure no. Come sempre, per chi magari non ha visto altri grafici, 5 dollari di investimento, 5 dollari di rischio massimo e questo è il profitto o perdita attuale. Ad esempio, meno 5 centesimi, meno 20 centesimi in questo caso. significa che se io dovessi vendere in questo momento andrei a perdere solo quella cifra e non 5 dollari. Può anche essere positivo e questo diventa positivo man mano che il prezzo si avvicina al mio obiettivo. Non sono opzioni binarie perché le opzioni binarie hanno un rendimento massimo che va verso gli 80-90% e inoltre il prezzo di riferimento e il prezzo di entrata. Invece qui il prezzo di riferimento è più basso e il rendimento naturalmente è molto più forte. Guardate, già qui potrei guadagnare 5 dollari quindi più del doppio del mio investimento è netto oppure se il mercato dovesse chiudere così fra 3 minuti vado a prenderne 15 netti. Cioè significa che vado a triplicare il mio capitale netto quindi mi troverei 15 più 5, 20. Quindi è molto interessante questo aspetto perché nel lungo periodo si può avere un buon rischio rendimento e quindi diventa veramente un sistema molto 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 interessante. Guardate, già qui potrei incassare quasi 9 dollari, ci significa il doppio del mio rischio e quindi un rapporto 1 e 2. In teoria potrei anche decidere di chiudere prima e non rischiare che negli ultimi due minuti magari un rimbalzo mi vada ad azzerare il mio guadagno. Guardate, siamo a 11, 12, siamo quasi a 15. Io vado a vendere perché per 3 dollari e mezzo ho preso il 246% non vale la pena aspettare altri due minuti. Un qualsiasi rimbalzo mi farebbe perdere questa opportunità quindi il rischio diciamo di perdere in quel momento era molto maggiore. Ecco, questo diciamo è stato un primo trade molto intelligente, pulito e naturalmente non sono tutti così, non sono tutti puliti, non sono tutti così efficienti ma se guardiamo tutti i grafici sempre con i giusti indicatori e aspettiamo i momenti di rimbalzo riusciamo spesso ad ottenere degli ottimi risultati. Gli altri esempi di solito li ho fatti sull'euro yen dove anche qui ho fatto tanto, diciamo tanti esempi, tanti lavori e se proprio volessimo ritornare qui vediamo un po'. Prendiamo 5 minuti che ha fatto un rimbalzo, impostiamo l'indicatore per il 5 minuti perché questo era impostato per il 4 ore quindi 5 minuti con filtro a 15, diamolo ok, vedete anche qui in questo momento fase ribassista. Abbiamo avuto un rimbalzo quindi per me ci sta anche qui una possibile tendenza ribassista. Quindi cosa facciamo? Andiamo sulle digitali, prendiamo l'euro yen, aspettiamo ormai la prossima scadenza delle 10 e 10 perché non ci piace fare investimenti troppo veloci e da lì riproviamo la nostra tendenza verso il basso sperando.